E vabbè, e vabbè, una caricata di roba da Illigo, nuove macchine, è quel momento dell'anno in cui Illigo presenta le nuove stampanti a resina e ragazzi oggi ho qui per voi la Illigo Mars 3 Ultra, non più pro ma ultra perché siamo in Ultra HD, siamo in 4K quindi prima stampante di Illigo con form factor piccolo, quindi non grande come la Saturn ad avere uno schermo di lavorazione, quello che va a polimerizzare la resina 4K, quindi in teoria è la stampante di Illigo con la qualità di stampa più alta mai vista perché abbiamo il 4K, il numero di pixel della Saturn, su uno schermo più piccolo, quindi i pixel sono più vicini e abbiamo più risoluzione e in più ho qua il Mercury X Bundle che sono praticamente le cose per lavare e asciugare e curare le stampe, non lo so, un sacco di roba recupero un taglierino e procediamo ad aprire la nostra Illigo Mars 3 Ultra che dovrebbe avere finalmente, dopo 3-4 modelli un design nuovo, o meglio il cupolone nuovo ma è tutta arrotondata, yes, finalmente vediamo qualche novità non solo sotto il cofano ma anche a livello visivo. Come al solito scatoletta di accessori, questa la conosciamo ah, purtroppo siccome non c'era stock delle stampanti europee mi hanno chiesto se mi potevano mandare quella statunitense in quanto recensore che deve averla prima possibile, gli ho detto sì va bene, quindi qua dentro mi troverò sicuramente la spina statunitense ma per voi sarà invece quella europea. Brugole, brugolame, cose varie, il cavo con la spina americana, esatto, guanti in lattice, la palettina, mascherine la paletta invece in metallo, quella in metallo va usata sul piatto che è in metallo, quella in plastica va usata sul vaschetta che è in FEP se no si striscia. Questo è l'alimentatore che tanto è universale quindi userò semplicemente una spina, una spina europea le sciucco vedete che è diversa? Tra l'altro è chiusa come se fosse un sacchetto di taralli che sono più buoni ma non altrettanto versatili perché con questa stampante possiamo veramente fare di tutto io le stampanti a resina ve le mostro sempre a stampare pezzi carini, di solito stampo sempre e una volta Notre Dame, e una volta il teschio del dinosauro che adesso fa parte della parete qua alle mie spalle stampo sempre cose belle perché ti danno la possibilità di fare cose molto belle e incredibilmente dettagliate le stampanti a resina, ma non dimentichiamoci che sono comodi anche per fare pezzi funzionali certo è un po' più sbatti gestire resina melliflua e schifosa e piccicosa ti dà sicuramente un po' di più lavoro che non una stampante FDM che premia un bottone quella estrude la plastica e c'è il pezzo pronto però anche per fare pezzi funzionali, cioè pezzi che devono servire a qualcosa che non sono estetici ma che non so, un pezzo che si è rotto, devi sostituire un pezzo per la macchina che ne so, farlo con una stampante a resina ti dà intanto una precisione incredibile e in più resistenza termica e un sacco di belle cose allora, la vasca è molto bella, è diversa da tutte quelle che abbiamo già visto sulle stampanti Ligo è tutto così arrotondato, non c'è più uno spigolo vivo, non c'è più una linea dritta molto bene, tra un attimo la spellicola perché poi dovremo montare anche il piatto piatto che comunque è dimensione Mars, non dimensione Saturn quindi è una stampante di dimensioni normali a sto punto però mi tiro fuori anche le altre due macchinari qua che oggi voglio fare una cosa un po' diversa assieme a voi anche tutti gli scacchi ho stampato in qualche video dedicato il lauconte ho stampato, quante belle cose con le stampanti a resina effettivamente le uso poco nella mia vita di tutti i giorni ma mi hanno dato tante di quelle soddisfazioni qui abbiamo questa macchina che dovrebbe essere il bundle Mercury X che è semplicemente un lavastira, un lavasciuga per le stampe che ci permette sia di curarle, cioè di finire di cuocere la resina dopo che il pezzo ha finito di stamparsi dovremmo comunque finire di solidificare la resina sia di lavarle, possiamo mettere nel vascone questo qua trasparente che vediamo non quello giallo, adesso lo vediamo nel vascone mettiamo alcol oppure acqua per la resina che si lava in acqua ammazza come pesa e essenzialmente completiamo il processo di stampa tanicone da 7 litri fortunatamente non dovete mettere per forza 7 litri di alcol e fortunatamente l'alcol si può ripulire dopo vi insegno un segreto cioè potete veramente buttarci i 7 litri di alcol e poi usarlo per tutta la vita basta che vi ricordate di mettere giù il coperchio che è talmente stagno che non si apre perché ha proprio la guarnizione di silicone cioè questo qua non vi evapora l'alcol se chiudete questa scatola l'alcol non evapora quindi potete mettere 7 litri di alcol e dimenticarvelo ogni tanto lo pulite e poi resta sempre lì tiriamo fuori tutti gli accessori c'è veramente un sacchissimo di roba e sul fondo della tanica non è semplicemente una tanica ma c'è questa girella per arieggiare l'alcol questo è il cupolone perché abbiamo tutte cupole colorate innanzitutto perché non passino i raggi ultravioletti del sole e non ci si coaguli resina dove non vogliamo che si coaguli anche qua sacchetto dei taralli e questo è il nostro macchinario di distruzione o meglio il nostro giro a kebab il nostro giro arrosto abbiamo c'è il display dentro questa cosa che ruota sembra tipo i termostati della Nest bellissimo poi mi rovinano tutto con questo vabbè che immagino dovremmo montarci qualcosa sì dobbiamo montarci sicuramente le due torrette di led ci sono due torrette di led da montare qua vedo già gli spinotti pronti e inoltre abbiamo dei led qua sotto per curare l'oggetto anche nella parte inferiore e questo è un'altra roba perché questo macchinario non ha niente sopra perché ha delle calamite nascoste sotto questo piatto e quelle calamite muovono in maniera wireless la nostra ruota vedete che la ruota ha quattro calamite tonde ai quattro lati e quindi la muovono in maniera wireless in modo che il contenitore dell'alcol possa rimanersene chiuso che non ci siano perdite o cose varie insomma questo è quello che in gergo tecnico viene detto cestello della friggitrice questo è un altrettanto cestello ma meno a forma di cesto le due torrette di led oh yes queste sono cattive guarda quanti bei led e questo sempre purtroppo compresa americana è il trasformatore che figo trasformatore a due teste trasformatore che mi dà potenza a entrambi le macchine peccato non poterlo usare perché la testa è sbagliata ma magari me lo converto torretta che ha un solo spinotto la connetto dal punto in cui mi esce un solo spinotto torretta con due spinotti deve stare dal lato dove ci sono due spinotti ok e quindi abbiamo le parti che irrorano il pezzo di ultravioletti le parti sotto che irrorano il pezzo di ultravioletti dal basso e tutti sono felici tranne Marco che deve adesso sbrugolarsi dieci bitine per tenere ferme le due torrette perché da un lato abbiamo attaccato un solo spinotto dall'altro lato invece due spinotti perché da questo lato questi due buchini sul retro sono vuoti da questo lato invece vedete che c'è un sensore di distanza e quello serve a capire quando la cupola è chiusa oppure no cioè lui si riflette roba lì nel suo angolino serve semplicemente a capire se la cupola è giù oppure no e le due torrette cacceranno a manetta gli ultravioletti potentissimi solo quando la cupola è chiusa in questa maniera evitiamo di abbronzarci allora come funziona il processo? facciamo scambio di posto così ve lo mostro step numero uno la stampa la stampante ha un lcd che è lì sotto sotto la vaschetta adesso non l'ho spellicolato se io svitassi la mia vaschetta e me la portassi via e la spellicolassi così vedete che là sotto è rimasto proprio un display lcd uno schermo lo vedete? lo vedete che sta riflettendo? è proprio uno schermo quello schermo è uno schermo 4k cosa succede? che la stampante emette luce ultravioletta in maniera più uniforme possibile più quella luce ultravioletta è uniformemente distribuita sull'area di stampa migliore è la stampante ma ormai al giorno d'oggi si è raggiunto un buon livello per il quale tutte le stampanti o almeno gli ultimi modelli di tutti i marchi più blasonati che sono due essenzialmente sanno fare questa cosa molto bene quindi arriva una luce ultravioletta bella uniforme da sotto in mezzo però c'è questo display che vi ho detto questo display 4k mono quindi monocolore monocolor che praticamente proietta su se stesso l'immagine di quel layer che vogliamo andare a coagulare di resina che vogliamo andare a polimerizzare che vogliamo andare a solidificare o meglio il negativo perché tutto quello che il display fa nero cioè dove il display si colora si colora di nero gli ultravioletti non passeranno chiaramente perché lì c'è un pixel buio e se gli ultravioletti non passano la resina in quel punto non polimerizza strato dopo strato layer dopo layer i layer sono spessi 0,0 cioè sono proprio sottilissimi sono qualche micron strato dopo strato si può costruire tutto l'oggetto stampato dove si costruisce? beh su questo piatto il piatto della stampa nelle stampanti a resina è al contrario cioè il piatto è a testa in giù e anche l'oggetto verrà stampato a testa in giù questo piatto scende lasciarlo spazio proprio di quel micron gli ultravioletti da sotto boom sparano la loro cosa a forma di display a forma di immagine eccetera eccetera questo sale giusto perché la resina si rimescola lì sotto riscende e fa un altro livello sale riscende fa un altro livello eccetera eccetera questo qua quindi sale 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 a una certa arriverà ad avere l'oggetto completato poi sta a noi staccarlo e passarlo nelle fasi successive adesso ve le nomino molto velocemente e dopo invece ve le spiegherò quando abbiamo le cose fatte fasi di lavaggio perché l'oggetto che esce comunque è stato a mollo nella resina che è viscida melliflua schifosa e poi pure cancerogena fortuna che la nostra Mars 3 come già la Mars 2 Pro ha i filtri ai carboni attivi che uccidono quasi totalmente ogni tipo di vapore di coca sono proprio fatti bene come filtri avevo visto degli youtuber che hanno proprio fatto delle misurazioni con strumentazioni scientifiche ed effettivamente non esce niente però l'oggetto come dicevo è tutto vicido schifoso cosa va di e cosa bisogna fare? lavarlo in alcol o nel raro caso delle resine lavabili in acqua si può lavare in acqua comunque bisogna sciacquar via tutta la resina che ci ha appiccicata addosso questo qua va fatto comunque con alcol o acqua correnti cercando però di non buttarli giù per il lavandino ma di conservarli però serve comunque un flusso inizialmente lo facevo con un sacchetto da freezer di quelli di plastica trasparente sigillati lo riempivo di alcol mettevo dentro gli oggetti e dopo lo shakeravo però comunque non è grandissimo non viene benissimo eccetera eccetera se hai una roba del genere pieno di alcol pieno di acqua cosa fai? prendi l'oggetto lo metti giù nel tuo cestello qua oggetto oppure oggetti qua ce ne stanno diversi lo metti in ammollo vedete che sta roba tra l'altro ha dei piedi che la distanziano dal fondo quindi la ventola in fondo al tanicone può girarsene liberamente e quindi tenere in movimento l'alcol e quindi ti risciacqua i pezzi bene i pezzi si sono lavati ma comunque restano un pochettino morbidi un pochettino viscidi comunque la resina l'hai lavata addosso ma non è perfettamente polimerizzata quella che vanno addosso e non sei riuscito a lavarla tutta cosa serve? serve la parte di cura questa che se non avete un macchinario dedicato si fa lasciandolo sul balcone al sole il più possibile sotto il sole perché ci servono ultravioletti e quindi sole il più possibile oppure lo si fa con il fornetto delle unghie della mamma oppure lo si fa con delle strisce led ultraviolette oppure con qualsiasi roba sappia mettere ultravioletti che vi trovate in casa e si finisce di cuocere il pezzo lì esattamente com'è se avete una roba che ve lo fa in automatico molto meglio nel senso io lo metto qua lei gira me lo illumina per sotto me lo illumina sui lati comunque questo colore giallo non fa passare gli ultravioletti perché sennò ci accecheremo da fuori e quindi tutti gli ultravioletti si riflettono dentro essenzialmente e quindi bene o male si riflette soffitto davanti e dietro e qui finisco di cuocere i pezzi molto bene mettiamoci all'opera ho trovato un paio di cose carine che volevo stampare trasferiamoci al computer e vi mostro ok ci siamo ragazzi procedo sul computer a scaricare Kitubox perché sei su Windows Marco quando normalmente usi sempre OS X perché voglio utilizzare oggi con voi Kitubox Pro che è una figata è il software Kitubox quello che si usa per tutte le stampanti 3D perché hanno proprio il firmware di Kitubox versione Pro fa un sacco di roba in più adesso vi mostro solo che ad oggi la versione Pro esiste solo per Windows quindi per mostrarvelo eh devo mostrarvelo con il computer Windows tra l'altro con la Illigo Mars 3 Pro ultra o cose varie ce lo danno gratis ci danno la licenza gratis all'interno della chiavetta io adesso lo scarico comunque dal sito per avere l'ultima versione però sappiate che ce l'avete gratis ti permette di fare l'auto arrangement delle cose molto più intuitivo molto più granulare come impostazioni supporta anche i file CAD ti fa i supporti in maniera sia automatica come la versione base ma migliorata e ci sono tipo nove tipi di supporti perché la versione base ha solo i supporti che vanno verso il basso e i supporti che si attaccano a un supporto vicino ma sempre dello stesso diametro qui invece puoi fare quelli che si attaccano al supporto vicino per dritto quelli che si attaccano al supporto vicino curvando oppure super sottili oppure che si supportano da due supporti vicini oppure un alberetto insomma un sacco di roba in più puoi salvare i profili l'anti-aliasing il riparamodelli questo è troppo comodo magari ce l'avesse anche cura per la stampa FDM operazioni booleane poi proprio sottrarre un oggetto dall'altro insomma fa un botto di roba in più vabbè andiamo direttamente col download perché tanto ce l'ho già vedete che se metto Mac esatto mi da coming soon Linux idem quindi è disponibile solo per Windows per ora oppla account al volo oh yes download vediamo se nella chiavetta che mi hanno dato assieme la stampante c'è tipo la licenza ok installiamo e avviamo anche esplorare le risorse così mi fa le anteprime dei file va bene benvenuto aggiungi macchina irigo mars 3 opla abbiamo pure l'immagine ma che bello dai no no è fatto molto meglio di kitbox base possiamo scegliere lo spessore dei layer in questa maniera super intuitiva va bene io lo lascio default applica operazione booleana hollow qui non ci sono tutte queste tab sulla versione base c'è tipo solo una schiera di icone e basta ah si può dividere il modello tipo se si vuole stampare una parte poi un'altra parte poi incollarle a posteriori figo allora aperto ma immagino sia open quindi apri oh yes ci pensa da solo dice controllo se hai danneggiato si controlla pure attenzione attenzione ripara tutto quello che vuoi ah ok ci mette un po' perché il modello pesa centinaia di megabyte questo qua era molto molto dettagliato però sta riparando ragazzi abbiamo un mandalorian bounty hunter allora una cosa però che mi è stata detta da più fonti ma ho anche dopo riscontrato sul sito di kitubox proprio è che i modelli a resina vanno stampati storti che si stampano meglio se si stampano tipo così e quindi noi stamperemo il nostro mandalorian così magari faccio un po' di avvolgimento sull'asse rosso si occupa meno spazio tanto vediamo l'ombra vedete che c'è l'ombra sul piatto e poi posso essenzialmente scalarlo al 170 il motivo per cui si stampano i modelli storti così è perché è molto più facile per il processo costruttivo della resina iniziare da un punto e poi procedere ad allargarsi più difficile invece iniziare da tipo una linea o da un qualcosa di più di più grosso ah ma si poteva fare molto più grande perfetto mi servono dei supporti sicuramente sicuramente sì ci va su supporti indovinate un po' e intanto dovrebbe farmeli da solo uh eccoli qua i vari supporti va bene facciamolo con i predefiniti per ora allora qui di fianco c'è più piattaforma o più tutti se io faccio più tutti mi applica tipo tutti i supporti in un colpo solo della tipologia che gli ho detto quindi potrei prima selezionare la tipologia e dopo inserirli ma vanno benissimo quelli di default forse sono un po' troppo grandi sono un po' spessi profondità contatto magari la diminuiamo un pochettino in mezzo che è il tronco diminuiamo un po' il diametro e volendo allarghiamo un po' le piattaforme di contatto col piatto vediamo se faccio cancella tutto e dopo faccio aggiungi tutto ok sì sì sono un po' più fitti così troppo figo le distanze le cose il rilevamento collisioni comodissimo se stampi un sacco di pezzi in una volta sola tipo quando ho stampato gli scacchi che devo stampare tutti i pezzi di un giocatore in un'unica piattata passiamo a fare lo slicing dove si chiama fetta chissà perché io ho detto di farmi il software in inglese e me l'ha installato in italiano uh molto più veloce lo slicing ragazzi 4 ore di stampa tra l'altro posso anche vedermi le varie fette di mandalorian vedete se io metto lo slider qua in un punto qualsiasi vedo la parte 3d come sarà arrivata a quel punto e vedo proprio l'immagine che verrà esposta sull'lcd per fare quel layer bene direi che si salva formato.ctb punto kitubox scriviamo il file adesso tra l'altro con la mars 3 ho preso la licenza di kitubox pro che è una figata e adesso posso usarlo con tutte le mie stampanti a resina quindi è tipo la stampante che ti sblocca i poteri della super mucca oppure si può semplicemente acquistare sul sito comunque ragazzi file sulla chiavetta io la caccio nella stampante 3d e via molto bene abbiamo quindi in chiavetta il nostro file pronto cosa bisogna fare beh intanto accendere la stampante bello col pulsantone mars 3 le stanno facendo sempre più professionali guardate solo questo display che bello ah no si vede sempre bluastro con l'iphone occhio nudo invece sembra quasi quasi parte della scocca della stampante ho fatto bene comunque devo andare su strumenti tools devo andare su manual 10 mm e poi freccia in su essenzialmente vogliamo tirare su il blocco qua perché vogliamo tirarlo su perché vogliamo agganciarci il piatto senza andare a strisciare la tannica quindi agganciato il piatto così come si calibra il piatto? bisogna svitare i due vitoni che troviamo qua con la brugola in dotazione uno sul davanti e uno sul lato in modo che vediamo che il piatto sia libero di basculare in questa maniera deve poi andarsene in giro come gli pare lo centriamo sicuramente su quest'asse nel senso lo mettiamo allineato alla vaschetta e poi sempre dalla parte manual premo quel tasto non lo so l'unico che rimane quello in mezzo a destra dovrebbe essere il vai alla home adesso lei scende finché non sente che sbatte essenzialmente attenzione però a fare questa cosa con il piatto smontato perché con il piatto scusate allentato perché se lo fate con il piatto che è avvitato e magari lo avete storto quando va giù va giù con uno spigolo più in basso pianta quello spigolo in display e via per la metà lo stampante molto bene ora il piatto non dovrei essere in grado di muoverlo a mano perché comunque è appoggiato alla pellicola che c'è sotto cosa faccio visto che da mollo è sceso e si è andato ad appoggiare perfettamente piatto lo riavvito lo avvito così ed è così sono sicuro che è bello parallelo che è bello allineato avvito entrambi i miei vitoni poi mi ritiro sul piatto giusto per avere lo spazio per adesso versare la resina vorremmo versare la resina per cominciare a stampare mi metto i guanti mi metto la mascherina non usate le chirurgiche che vi danno in dotazione perché non servono a niente usate almeno una FPP2 perché la resina comunque è tossica possiamo versare la resina qua nel vascone poi tapparla inserire la chiavetta e premere stampa semplicemente così tutto automatico non vi faccio nemmeno il timelapse perché come sapete non ve li faccio mai per le stampanti a resina perché è super noioso cioè il piatto che va su e giù così finché l'oggetto non si è completato e non c'è niente da vedere adesso prendo la stampante la sbatto sul balcone stampo e noi ci vediamo la stampa fatta oh yes ce l'abbiamo ragazzi ho con successo portato a termine la stampa del nostro cacciatore di taglie del nostro Mandalorio ho qua tutto il trittico di macchinari iligo prima di aprire e di intossicarmi vi dico solo che spero sia ancora in buone condizioni perché ho dovuto lasciarlo lì qualche giorno dopo che ha finito di stamparsi cioè lui è lì ferma la stampante da qualche giorno perché non avevo abbastanza alcol da riempire questo enorme recipiente adesso mi sono comprato 3 litri di alcol denaturato quello rosa da pavimenti proprio 99 gradi in modo che non lasci residui sulle stampe se non trovate il 99 va bene anche il 95 non prendete il 90 però perché il 90 vuol dire che c'è 10% di schifo dove schifo sono benzeni cose anelli aromatici strani insomma comunque roba che poi ci peggiora le nostre stampe l'isopropilico non serve comunque avrò benissimo anche l'etilico denaturato sto facendo questa cosa a piedi nudi e ho anche toccato prima il tavolo di ferro siate sicuri di non avere addosso elettricità statica prima di mettere in un unico posto 7 litri di alcol perché non so una scintillina dal dito un qualcosa non deve essere proprio piacevole e inoltre il recipiente cercheremo di tenerlo al fresco e in un luogo protetto dove non si possa essere caldo improvviso dove non ci possano essere scintille dove anche in caso di incendio della casa non faccia troppi danni esplodendo purtroppo è rosa spero che non mi tinga di rosa la stampa anche se in realtà poi una stampa così carina come il Mandalorian si potrebbe anche dipingerla però nel caso volessi lasciarlo bianco speriamo che non me lo tinga di rosa come fare per trasformare l'alcol rosa in alcol trasparente semplicemente lasciatelo al sole al sole possibilmente in un luogo fresco quindi se è inverno meglio perché c'è il sole ma non c'è temperatura calda però insomma fatelo colpire da ultravioletti quindi non dietro una finestra ma al sole direttamente e diventerà trasparente molto bene mi metto su una FPP2 e apriamo l'involucro delle meraviglie ah beh no così quasi mi metto su anche i guanti visto che ci sono visto che li ho preparati un po' di scottex nel dubbio per asciugare eventuali gocciolamenti me lo preparo qua e let's go mi sono anche preparato uno degli imbuti di carta che ci danno in confezione perché vogliamo recuperare la resina avanzata solo che dobbiamo filtrarla nel recuperarla perché potrebbero esserci dei grumi andate piano nel versare ovviamente perché ne avevo preparata veramente tantissima e ne è servita molta meno e voi direte Marco ma stiamo sprecando 5 litri di alcol denaturato per un solo Mandalorian assolutamente no amici miei adesso vi insegno anche un trucco abbiamo sciacquato anche la vaschetta ok allora concentriamoci sulla nostra macchina rosa perfetto posso buttare giù la paletta nell'alcol ma si buttiamo anche lei questo è il nostro oggetto stampato a resina con ancora i suoi supporti prendo il tutto lo metto giù nel cestello della friggitrice ho storto perché esce fuori la punta del fucile buttiamo un po' di alcol giusto a dare una prima pulita al piatto dopo me lo pulirò meglio e quasi quasi tappo anche questa roba perché sennò l'alcol mi evapora tolto i guanti posso tecnicamente togliermi anche la mascherina non c'è niente che sta più inquinando di resina troviamo della corrente dovrei avere il suo alimentatore alimentatore staccato dalla corrente attacco prima l'alimentazione qua in modo che nel momento in cui l'attacco non mi fa scintille perché lui non è alimentato non guardiamo mai delle scintille vicino ad alcol o benzina visto che ci sono attacco anche la seconda macchina visto che abbiamo due spinotti e solo ora vado ad attaccare qua eventuali scintille a quel punto le avrò solo lì e siamo ben lontani intuitivo ok ok e posso fare adesso tipo due minuti di lavaggio vai vedete che l'alcol è centrifugato e mi sta lavando per bene il mio amico Mandalorian c'è la ventola sotto che ma che interfaccia piacevole a metà tempo cambia direzione fatemi togliere la paletta che è un po' bruttissima da vedere a occhio nudo si vede molto meglio ci sono tutte delle luci qua attorno al display nella parte di plastica proprio che fanno tipo da time ci fanno proprio da controller rovescia visuale io metto adesso tipo 30 secondi non so vedete che partono tutte le lucine guarda faccio un po' di ombra yes e poi man mano vedete che si tolgono e a metà tempo cambia sempre direzione che figo molto bene al che prendiamo la macchina successiva bisogna tenere premute entrambe per farle accendere yes ok apro pace con il Mandalorian ragazzi qua lo dico qua lo nego questa macchina della Illigola va meglio di quella di Anycubic spero che i miei amici di Anycubic non stiano guardando questo video Illigola sicuramente non mi paga per dirlo però ragazzi sarà anche un modello successivo quello che volete però la va meglio si è un po' rosa il Mandalorian ma adesso vedrete che con gli ultravioletti si sbianca qua chiudo l'alcol però perché sennò mi ubriaco diamogli 5 minuti di pulitura e via allora noi adesso vediamo una luce verde guardate se scurisco vedete che ci appare verde la luce e lui sta girando sta lì si cucina come un kebab tutto bene a parte che se io aprissi lei si arrabbia perché dice ehi non ho più la mia copertura ma se io facessi finta che lei avesse la copertura tipo prendendo il mio coso e mettendolo qua guardate la potenza sono potentissimi quelli di ultravioletti e sono viola sono ultravioletti non sono verdi il verde lo vediamo noi perché c'è una cupola gialla che ci salva sia i nostri occhi sia il sensore della fotocamera per il video ok allora sono passati circa un quarto d'oretta quindi gli ho fatto fare tre girate da cinque minuti cambiandolo di posto ogni volta abbiamo fatto la prima in piedi così la seconda l'ho fatta sdraiato così l'altra sdraiato così a parte che è asciutto con quella dell'anycube che non mi è mai uscito fuori l'oggetto asciutto cioè posso toccarlo veramente non mi pagano dovrei dirvelo per legge italiana proprio però guarda che roba è asciutto ed è venuto benissimo ok adesso ve lo mostro meglio nel dettaglio volevo molto velocemente rimuovere i supporti cosa che si può fare o a unghie o più consigliabilmente con un piccolo tronchesino però però vengono via abbastanza bene poi magari si rifinisce con un dremel o un tronchesino però è già croccante è veramente la prima macchina che me lo asciuga proprio a livello vetroso a livello di oggetto finito poi quest'estate se non avete budget per andare in vacanza la macchina che vi rende ubriachi e la macchina che vi abbronza potete tranquillamente simulare il tutto quelli che vi sto presentando oggi sono due prodotti diversi c'è la iligone mars 3 ultra e c'è il mercury bundle il mercury bundle sono le macchine di post produzione chiamiamole cioè non aspettatevele incluse nella stampante chiaramente abbiamo un mandalorian pronto non ve lo mostro ancora nel dettaglio perché voglio dargli giusto un'ultima asciugata a parte che sta in piedi perché effettivamente è un action figure però con un piede eccolo qua ha un piede in fase di camminamento ok facciamogli fare un giretto così così siamo più sicuri che è secco secco va tre minuti e non cade attenzione perché gli sto facendo fare un altro giro dopo aver tolto i supporti perché magari i supporti gli facevano ombra semplicemente così adesso è solo lui e sono sicuro che tutto l'ultravioletto lo colpisce su tutta la superficie e signori ci siamo con quanta facilità mi ero dimenticato di quanto bello fosse avere delle macchine che fanno le cose a posto tuo per quanto riguarda la stampa resina potrebbero quasi rifarmela a piacere sì perché mi vedete sempre gran poco stampare a resina perché è un processo un po' lungo e di solito preferisco la stampa FDM ma così mi cambia proprio tutto ragazzi ma vabbè abbiamo sbloccato risoluzione infinita più di una stampante 4k non so cosa possa servire perché guardate la cinghia la fibbia della cintura guarda il coltello con le seghettature nella lama le fessure del cuoio cioè questo qua è il mio dito per confronto il suo tronco è come il mio pollice della mano guarda i dettagli dell'arma i cerchietti la zigrinatura qua di sopra non riesco neanche di carvi guarda le pieghe del guanto della pelle le nocche delle mani ragazzi sono esterrefatto mi sono dimenticato dei supporti qua dietro il mirino del fucile spettacolare devo solo finire di ripulire un po' quei supporti ma ragazzi Mandalorian non posso mettervi la sigla come Huxmith perché non ho la sponsorship di Disney sono proprio contento sia per la qualità infinita del modello per quanto bene ha lavato quella con l'alcol e per quanto bene ha asciugato questa roba qua che sono ancora tiepidini ragazzi per questo video è tutto da Overvolt e mando è tutto ciao a tutti a presto a presto Grazie.